buongiorno a tutti e benvenuti all'ottavo appuntamento del ciclo i venerdì della scienza un'iniziativa del forum accademico italiano in collaborazione con l'istituto italiano di cultura di colonia io sono fiorella retucci presidente del forum accademico italiano e oggi ho il piacere di avere nostro ospite in collegamento da parigi l'amico professore emanuele coccia uno dei più influenti filosofi contemporanei cui porto i saluti di maria mazza direttrice dell'istituto italiano di cultura di colonia e di maria cristina polidori coordinatrice scientifica del forum accademico italiano buongiorno emanuele buongiorno fiorella grazie mille grazie a te allora emanuele è attualmente professore alle colles of the tude di parigi dopo aver insegnato a lungo in giro in europa e nel mondo è stato professore all'università di triburgo in germania è stato visiting professor presso l'università imperiale di tokyo è stato visiting professor a buenos aires ha insegnato anche alla heerichheim universitet di dusseldorf ha insegnato alla columbia university di new york insomma ha insegnato un po in giro e emanuele coccia nasce specialista di filosofia medievale e infatti la sua prima opera è dedicata alla dottrina dell'intelletto nell'averoismo latino il titolo della sua prima opera è la trasparenza delle immagini a vero e l'averoismo pubblicata da mondadori nel duemilacinque nel qualche anno dopo emanuele coccia ha pubblicato insieme a georgia gamben un'antologia sugli angeli nel giudaismo nel cristianesimo e nell'islam negli ultimi anni emanuele ha indirizzato emanuele coccia ha indirizzato i suoi interessi nei confronti della filosofia della natura cui ha dedicato un'opera assai importante la vita delle piante una metafisica della mescolanza pubblicata presso la casa editrice il mulino nel 2018 però l'opera è stata adotta in ben dieci lingue almeno credo siano come 10 e nel 2020 poi è stato pubblicato il suo ultimo libro metamorfose che spero a breve sarà pubblicato anche in traduzione italiana dunque caro emanuele danni ti concentri e porti avanti un progetto in cui io tra l'altro vedo anche una forte continuità ed è quello di una nuova filosofia della natura e nel tuo libro la vita delle piante scrivi che questo libro intende riaprire la questione del mondo a partire dalla vita delle piante e fare questo significa riallacciare con un'antica tradizione e invece a partire dall'ottocento a partire dall'idealismo tedesco tutto quello che rientra sotto il nome di scienze umane si è trasformato in uno sforzo poliziesco al contempo sconfortante e disperato di far sparire la natura dal dominio della filosofia allora la mia prima domanda è se posso cosa intende esattamente per filosofia della natura e per natura dunque grazie innanzitutto per la presentazione così generosa e comincio forse dalla seconda domanda cioè cos'è la natura e perché una domanda paradossalmente più semplice nel senso che forse la maniera più rapida e semplice per definire natura anche partendo dall'etimologia del termine che che lega appunto la natura alla capacità la possibilità di nascere dico diceva che natura è tutto ciò che ha nascimento con appunto natura è l'insieme del delle cose degli esseri che fanno l'esperienza di nascere in fondo c'è una cosa che caratterizza tutto ciò che vive che è il fatto che per arrivare ad essere per essere nel mondo bisogna nascere che è qualcosa di estremamente misterioso da una parte curioso strano e anche difficile da da pensare da sviluppare in parte per ragioni non come dire oggettivi in parte per ragioni culturali viviamo una cultura di fatto estremamente maschile maschilista prodotte da secoli dai maschi per i maschi e quindi che è ossessionato dalla morte dall'invecchiamento e ha come messo da parte esperienza invece molto più universale molto più o comunque parimenti universale e però molto più interessante che la nascita il fatto di dare nascita e per cui c'è questo strano paradosso per cui se ti chiedessi dammi una lista di di opere sulla morte che ti hanno colpito daresti una serie di romanzi poi poesie film opere d'arte mentre invece sulla nascita dovremmo sforzarci per arrivare a 10 15 e in questo anche la vuol dire anche la tradizione teologica che ha come occupato la questione la nascita con il tema della nascita di cristo che l'esatto opposto della nascita male in fondo individuale ha reso le cose più difficile fondo la nascita e questo è il mistero del fatto che ciascuno di noi per vivere per arrivare non può prendere una porzione di materia che non era stata occupata da qualcun altro deve quindi prendere la vita occupare un corpo che aveva già visto che ha già vissuto la nascita il fatto che ogni vivente è la seconda volta di una vita che ha già vissuto della seconda volta in termini genetici la seconda volta in termini fisiologici termini di respiro di e in termini anche di sguardo fondo tra l'altro noi in quanto come dire a causa del fatto che abbiamo accesso alla nascita solo attraverso la riproduzione sessuale siamo la seconda volta simultaneamente di due vite che hanno già vissuto il mio nel mio corpo ripeto per una seconda volta riciclo letteralmente la vita di mio padre la vita di mia madre e obbligo queste vite a vivere una vita per le quali non erano state fatte tra l'altro forse per questo che che vivere così difficile perché costringiamo in fondo la vita ad affrontare cose situazioni mondi che per cui non era fatta quindi la natura è questo è il è questa strana metamorfosi che fa sì che la vita si ripeta senza senza davvero potersi chiudere su se stessa e e tutti i paradossi della 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 natura sono legati a questo fatto tra l'altro una delle cose più belle almeno per me del fatto di nascere oltre appunto a questa idea che sei sempre una seconda volta è sempre sei sempre un secondo tentativo di una vita che c'è già stata è il fatto che la vita che ciascun vivente veicola è una vita molto più antica del del corpo che la che la che la ospita nel senso io ho 44 anni oggi cioè oggi in questa in questo momento però la mia vita ha almeno 30 anni di più perché 30 anni era l'età di mia madre quando mi ha partorito però siccome mia madre come dire anche lei è nata in realtà la sua vita è antica di almeno altri non so 20 30 anni eccetera eccetera fino ad arrivare alla prima madre fino arrivare alla prima eva umana quindi ciascuno di noi a causa del fatto che è nato è vecchio alla stessa età dell'umanità quindi questo cioè la nascita è anche questo strano corridoio che unisce ogni vivente a tutti a tutti i viventi della stessa specie però poi siccome è fondo anche l'evoluzione ci dice che come dire le specie evolvono attraverso la nascita quindi significa che ciascuno di noi veicola una vita che antica quanto lo è la vita sulla terra quindi per questo è importante capire che natura significa come dire godere di un'esistenza grazie alla nascita ma a causa della nascita noi abbiamo dentro di noi qualcosa che è antichissimo e che ci unisce a tutto quello che vuol dire al primo vivente a tutti i viventi a causa del fatto la nascita è questa è questa impossibilità di di porre una soluzione di continuità nella catena della vita nella storia della vita è il fatto che ogni vivente veicola qualcosa che ha già vissuto e questo qualcosa che ha già vissuto è la primissima vita in fondo paradossalmente è come se tutti noi stessimo ancora veicolando sotto mentite spoglie lo sguardo di adamo ed eva però oppure lo sguardo di lui gli scienziati oggi parlano di luca last unique common ancestor però dietro i nostri occhi dietro gli occhi di tutti noi e di tutti noi c'è questo luca questo tizio ameboide protistoide non so questa specie di gruppo di di proteine che si che si e di molecole che si è sviluppato all'inizio della storia e la filosofia della natura è questo è forse la consapevole di c'è come dire è la consapevolezza che quindi ogni individuo porta in sé una storia che in fondo coincide con la storia del pianeta e quindi limitare la riflessione filosofica a quello che succede oggi ora a milano a new york a napoli non so a colonia a berlino a dakar e pensare che quanto ci sia di più urgente le nostre piccole preoccupazioni quotidiane è un modo per non pensare in fondo proprio perché quello che viviamo in realtà è la della storia della terra sempre in ogni momento non so se ho risposto assolutamente sì quindi filosofia della natura come stupore e meraviglia nei confronti di tutto che è di tutto ciò che nasce e di tutto ciò che è caratterizzato dalla nascita che però non è una cesura netta un passaggio netto dal non essere all'essere ma è una trasformazione che accomuna tutte le specie tra di loro questo questa risposta mi dà la possibilità di passare in maniera piuttosto spontanea ad un'altra domanda che avevo pensato di porti un altro tema su cui ti sei particolarmente concentrato negli ultimi tempi è quello è il mistero come lo definisci tu della molteplicità delle specie delle forme di vita in questo senso vorrei chiederti pensi al futuro dell'umanità come ad una riscoperta della biodiversità che in noi ad una riscoperta della continuità transpecifica o meglio della multispecificità e ti vorrei chiedere cosa intende innanzitutto con biodiversità con multispecificità e transpecificità domande sempre semplicissime e dunque in fondo appunto per la stessa ragione per cui appunto in realtà ciascuno di noi ha una storia a causa del fatto che nasce che non è puramente individuale no in fondo la genetica è questa questa stranissima struttura della vita per cui non so il mio occhio già vissuto nel corpo di mio padre la mia bocca forse ha vissuto nel corpo di mia nonna e è così anche nella relazione tra le specie in fondo il grande l'idea bellissima del trasformismo sia la marchiano darwiniano però della teoria dell'evoluzione e che ogni specie anche una seconda volta e che quindi ogni specie non può che essere non può che veicolare tratti che non come dire che non appartengono solo a lei e di questo ne facciamo esperienza punto ogni volta basta guardarci allo specchio non vediamo degli occhi il naso la bocca delle orecchie condividiamo a causa dell'evoluzione tutti questi tratti con migliaia di altre specie questo significa che in realtà il nostro corpo ci dà accesso ad una vita che è già biodiversa che è già molti specifica noi siamo uno zoo ambulante non siamo una non siamo individui umani puramente umani noi respiriamo in ogni istante viviamo una vita che è un po' umana un po' un po' scimmiesca un po' batterica un po' virale e questo è il nostro respiro quindi ogni specie è una strana forma di appunto di zoo o di biodiversità e ogni individuo in realtà è biodiverso in sé non abbiamo bisogno di essere di stare davanti a un cane un gatto per 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 fare esperienza di questa appunto assieme biodiversità e come dicevi tu trans specificità del fatto che ogni specie in fondo a causa di questa stranissima questa stranissimo modo con cui le specie si costituiscono ogni specie già trans specifica quello che tra l'altro abbiamo scoperto cominciando a mappare i geni che condividiamo tutte le specie condividono anche molto distanti tra di loro possono condividere porzioni geni e da questo al di là del fatto biologico come dire perché la domanda era 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 anche chiave politica prospettiva chiaro che veniamo da da qualche decennio in cui la tentazione all'isolamento quasi monoculturale è stato forte ma non solo in termini culturali anche in termini come dire fisici e spaziali la città moderna è stata sempre di più una forma di monocultura umana no cioè un tentativo di stringersi tra di noi cacciare via tutti gli altri fatta eccezione per cani gatti topi in maniera illegale qualche albero più o meno come dire strappato arresto e poi respingendo in uno spazio esteriore che chiamiamo foresta appunto che poi sarebbe da tradurre campo profughi perché foresta mi senti da fori sta silva foresti sanzi però insomma vuol dire tutto quello che sta fuori dalla città prodotto in maniera un po rosa però e e e questa accelerazione della mineralizzazione della città e di un di una città che vuole diventare sempre più monospecifica ci fa stare male credo fisicamente e e poi ha messo per mille ragioni in 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 pericolo il futuro del pianeta e quindi è ovvio che da un punto di vista strettamente urbanistico architettonico in realtà le città vogliono sempre di più diventare degli spazi di invenzione e costruzione della biodiversità no si parla molto adesso di questi corridoi della biodiversità che dovrebbero cercare di appunto aprire la città a vite non umane ma anche da un punto di vista culturale in fondo quello che dobbiamo cercare di capire non è semplicemente pensare fondo che la soluzione sia costruire degli spazi in cui la natura possa esistere in maniera selvaggia senza che noi ci siamo il problema è comprendere come costruire gli spazi di coabitazione all'interno delle nostre città sì mi sembra che che questa sia la prospettiva c'è una cosa che in fondo il scusami adesso se c'è una cosa che è successa in questi mesi che credo che cambi radicalmente forse la cosa più importante anche politicamente degli ultimi decenni cioè che in fondo la pandemia è stato uno stranissimo è stata una tragedia per molti di noi e però è stata anche la stranissima una forma di globalizzazione delle carni cioè noi avevamo conosciuto la globali la prima coscienza di appartenere ad un medesimo pianeta era avvenuto attraverso la colonizzazione delle americhe e poi appunto la costruzione di reti prima commerciali e poi politiche che hanno unificato un pianeta che non era unito né nei fatti almeno dal punto di vista culturale economico politico né nelle coscienze però appunto almeno da un secolo c'era questa unità adesso è come se sia se si fosse costruita una unità delle carni nel senso è come se avessimo realizzato per la prima volta di appartenere ad un'unica carne che tutte le carni umane sono legate perché quello che succede adesso per esempio in questo momento in india è come se succedesse a noi di fatto impedimenticamente quindi bisogna agire e non solo le carni umane come dire abbiamo l'evidenza che quello che succede a un pangolino un pipistrello ad un uomo come dire tutto non solo correlato ma c'è un'unica carne c'è un'unica vita sul pianeta questa coscienza qui è qualcosa di enorme e radicalmente nuovo perché è primo all'emergenza di uno spazio di universalità pre culturale pre politico pre nazionale ed era una cosa che non era mai apparsa con una con una forza e un'evidenza così forte no in fondo e che però appunto è una coscienza utile importantissima perché ci permette di avere una base per dire appunto possiamo parlare a tutti a tutti senza doverci scannare no tu parli perché sei svedese africano cinese donna omosessuale no in questo caso appunto c'è una carne che tutti condividiamo però è una cosa che appunto produrrà un terremoto politico e culturale mostruoso perché mostra fondo quanto antiquati siano gli stati appunto la vaccinazione mostra questo quanti gli stati sono appunto come dire strumenti e istituzioni rozzi per risolvere un problema che non può essere appunto finché non ci sia un coordinamento globale per la vaccinazione inutile che c'è una nazione anche andare più avanti ma tanto il virus questo questo credo che sia politicamente l'evento più 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 importante che come dire come per per chiudere la domanda e per tornare sul punto su quello che dicevi è chiaro che adesso il compito è inventare una politica che sia per forza anche non solo multispecifica ma transpecifica perché poi appunto abbiamo un capito che ci sono cose che passano da una specie all'altra e che possono metterla in pericolo oppure no effettivamente per la crisi che stiamo vivendo gli ultimi ormai quattordici mesi ha dimostrato esattamente la sua dimensione universale globale che come giustamente dicevi tu va in direzione esattamente contraria rispetto a quella tendenza al purismo specifico in cui la storia ci ha abituati fino a non molto tempo fa c'è un'altra idea che io ho riscoperto nel tuo libro sulla vita delle piante e che secondo me è diventato grazie alle crisi che stiamo vivendo mi riferisco non solo alla crisi pandemica ma anche alla crisi climatica di enorme e estrema attualità tu parli di metti a confronto in vita delle piante il parassitismo meglio il cannibalismo della vita animale e l'adotrofia della vita vegetale eh sottolineando come la vita animale presupponga l'esistenza di altri viventi vive una vita che è essenzialmente di altri senza produrre null'altro da sé e eh scrivi che le piante si sottraggono eh a questa autoreferenzialità del vivente perché non solo godono di un'autonomia alimentare ma hanno anche la capacità e sono forse le uniche eh gli unici esseri viventi che possono farlo hanno la capacità di trasformare in corpo vivente ciò che le circonda ora mh questo tema del parassitismo animale e questo tema della eh della autonomia vegetale eh è a mio avviso diventato davvero ancora più attuale eh nelle emergenze che stiamo vivendo cosa possiamo imparare ancora da da tutte queste da queste crisi e cosa possiamo fare? Eh bisogna cambiare il modo in cui immaginiamo le città eh bisogna cambiare il modo in cui immaginiamo anche forse le le la le case anche in fondo ehm in fondo anche le case sono ancora più delle città spazi estremamente monoculturali estremamente appunto non fatti per vite eh diverse da quella umana a parte appunto cani gatti ed eventualmente pesci cioè appunto forme di vita che non mettano in dubbio la supremazione o comunque la la l'umanità dello spazio in cui viviamo questo forse deve cambiare proprio perché in realtà la grande sfida ecologica non è quella di come dire costruire spazi selvaggi ovviamente bisogna farlo ma è quello di cambiare la città di appunto di 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 arricchire la natura ordinaria che ci lega agli spazi che abitiamo in fondo ogni volta che parliamo di città io ti parlerei appunto di uomini di pietre però uomini di pietre uomini di pietre assieme fanno un deserto non fanno un pianeta quindi è come se dovessimo ricreare appunto quello che è un pianeta all'interno delle nostre città e questo cambierebbe completamente l'esperienza anche sensibile e visibile della città al di là dell'idea di fare parchi in città in fondo questo non basta più la grande idea ottocentesca di cioè quando è nata la città moderna con la rivoluzione industriale è subito nato il suo antidoto l'idea del parco pubblico di introdurre verde di anche liberare i corpi dal lavoro dalla rigidità dei gesti no il parco era questo bisognerà e questo è stato comunque una grande invenzione ora bisogna pensare non a dei parchi pubblici ma dei degli appunto della presenza diversa da quella umana nelle città che significa pensare l'età come dire le case per gli animali che non siano zoo che non siano gabbi eccetera questa è la prima cosa poi invece su un piano forse non necessariamente legata alla questione della biodiversità secondo me la grande la grande il grande compito che la pandemia ci ha dato il compito a casa in fondo alla lettera è quello di cambiare le case le pandemie sono state questa la pandemia è stata questa stranissima esperienza di come dire di crollo della città no le città sono crollate davanti a noi sono diventati spazi privati spazi vietati ed è come se tutto questo ci avesse e siamo stati costretti a vivere in casa capendo quanto poco abbiamo investito sulla casa in questi secoli cioè la modernità è questo stranissimo questo periodo in cui rispetto al mondo antico in cui lo spazio pubblico lo spazio domestico erano spazi ugualmente importante perché la produzione era nello spazio domestico no la città la modernità nasce quando la città strappa dall'oicos dello spazio domestico la produzione e diventa questo teatro di di ricchezza soprattutto ma anche di emancipazione di vita appunto rinnovata e però abbiamo trasferito in città tutto quello che rende una vita umana degna di essere detta tale perché appunto c'è tutto in città ci sono i teatri cinema le biblioteche i ristoranti tutto tutto quello che fa della nostra vita una buona vita sta in città e non ci siamo curati di quello che sta in casa abbiamo lasciando la casa una forma uno stato di esistenza archeologico in fondo la casa esiste le nostre case sono disegnate come se l'umanità presente su questo pianeta fosse ancora nel sedicesimo secolo con un'idea di famiglia assurda assurda un'idea di famiglia che non esiste più con un'idea anche di divisione appunto il bagno deve essere separato dalla cucina che deve essere separato dalla stanza del letto tutte cose che in fondo non so se se sono giusti però è come se siccome la nostra vita aveva luogo soprattutto fuori casa noi abbiamo anche da un punto di vista teorico i libri di il numero di libri scritti sulla città è infinitamente più grande il numero di libri scritti sulla casa e e e allo stesso tempo però è come se appunto a parte le pandemie anche future in realtà dovrebbero invitarci a dire no dobbiamo reinvestire lo spazio domestico perché l'illusione che noi abitiamo la città è una falsa illusione noi possiamo passare due ore tre ore cinque euro in città ma a un certo punto dobbiamo rientrare a casa perché la città è questa strana forma di spazio radioattivo non le sole persone che vivono veramente città sono i senza tetto che muoiono come dire e questa cosa qui va ripensata completamente cioè come se bisogna ripensare lo spazio domestico riaprire lo spazio domestico è una cosa che abbiamo già cominciato a fare perché per esempio quello che stiamo facendo noi due zoom facebook instagram sono già prefigurazioni o tentativi di vivere uno spazio domestico allargato in fondo grazie a whatsapp a zoom a facebook noi viviamo in uno spazio domestico assieme a 5.000 persone e però viviamo in questa schizofrenia per cui qui dentro io appunto posso stare a casa ma appunto parlo con te che sei in in germania però poi la casa minerale resta appunto una casa dell'età della pietra noi dovremmo cercare di adeguare questa di come dire di adeguare la casa minerale alla casa digitale cercare di fare delle case soprattutto delle case uno spazio di per esempio di condivisione con animali piante ma anche soprattutto con gli altri uomini che si è come se secondo me l'immagine che mi viene è quella di appunto uno spazio in cui le case scavano corridoi per riunirsi tra di loro e per smettere di essere caverne in cui siamo chiusi per la pandemia ma non solo per la pandemia quindi il programma per un'umanità del futuro prevede a tuo avviso rendere la città come il grande teatro della multispecificità e non può che ripensare anche lo spazio domestico sì io vorrei chiudere questa chiacchierata con una domanda che oggi forse ancora più significativa perché questa intervista andrà in onda tra qualche giorno però oggi è l'anniversario della morte di gramsci e quindi questa domanda assume tutt'altro significato qual è il ruolo degli intellettuali che ruolo possono avere gli intellettuali e in particolare i filosofi o meglio i filosofi della natura possono e devono avere un ruolo nella scrittura del manifesto della nuova umanità nel ripensare la città e ne ripensare anche a dimensione domestica o li lasciamo chiusi tra le mule dell'accademia e la filosofia non è un sapere come dire che può essere definito da un oggetto un metodo uno stile anche storico noi appunto io alla base almeno per qualche anno ho condiviso il tuo mese che è quello di storico della filosofia appunto il canone filosofico è fatto da personaggi totalmente eterogenei che non condividono nulla tanto appunto che di solito ci si appunto la prima cosa è capire perché si chiama filosofia il capitale di max che è un trattato di economia o capire perché si chiama filosofia non so nel libro di platone che è un'opera letteraria o il di animali un trattato di zoologia come quelli che aristotele ha scritto quindi la prima cosa è che in realtà la filosofia dovunque è solo è solo appunto quel sapere che è stato generato da un amore smodato da una passione per cui o uno arriva a sapere qualcosa oppure muore quando c'è questa passione c'è filosofia e puoi essere un chimico un cuoco un però appunto ci deve essere quella passione per cui ne va della vita o della morte e proprio per questo in realtà sì se chiamiamo intellettuali filosofi sicuramente anzi è solo in mani a filosofi primo perché punto per capire per uscire ci vuole comunque non so passione poi non so se una parola bella in italiana ma ci vuole questa specie eros ci vuole questa specie di forza enorme che la stessa forza appunto quando uno è innamorato di qualcuno o di qualcuna per cui si pensa solo a quello si fa solo quello tutto prende un altro senso quindi è ovvio che solo un sapere attraversato da questa forza ci può portare fuori questa passione come l'amore in fondo no non è che arriva tutti i giorni è una cosa rara in fondo rara nel senso che per chi è capace di amare l'amore incontrare una persona di cui si innamora non è un'esperienza comune è rara perché per alimentare questo amore ci vuole una forza una determinazione fuori dal comune quindi per questo visto che hai citato gramsci e visto io direi che forse anche è venuto in mente di smetterla di tirare tirare monetine sui sugli intellettuali come abbiamo fatto con qualche politico qualche anno fa e cominciare a pensare che sono una risorsa perché appunto in realtà da questo punto di vista l'intellettuale è più che qualcuno che è in contatto con con non solo spirito la ragione è un essere umano che ha una capacità di amare fuori dal comune amare appunto in questo caso un sapere un'idea un però quindi la realtà però l'intellettuale chi riesce ad amare il reale con una forza con la stessa forza con cui per cui non so quando vediamo una coppia che ha dietro di sé 60 anni di convivenza ci commuoviamo perché sappiamo tutti quanto 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 ci sia di fortuna ma anche di forza di determinazione ecco la stessa cosa rispetto alla realtà cioè l'intellettuale una figura dell'amore sono un po' new age quello che dico però 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 credo che sia importante dirlo in un momento in cui ho l'impressione che se ne parla sempre per 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 ghigliottinarlo beh ma non è tanto new age l'aveva capito anche aristotele in principio è una meraviglia e quindi è aperto proprio la sua metafisica ricordandoci che comunque tutti gli uomini desiderano la natura sapere e che la natura desiderare e amare il sapere invece innaturale e ehm e l'ignoranza e cercare l'ignoranza io con queste ultime parole ti ringrazio davvero moltissimo per tutti gli spunti di riflessione che ci hai dato e ti ringrazio di essere stato qui con noi e spero di averti presto magari in presenza la prossima volta grazie mille grazie arrivederci arrivederci